Let's go! Bentornati ovetti su Super Mario Maker 2! Nello scorso... ok, abbiamo capito, dico sempre le stesse cose. Cominciamo e basta. Ok, eccoci qua. La vendetta di Bowser. Guardate, giusto ieri ho detto Uffa che pizze non mi piacciono i livelli con Bowser e ovviamente adesso cominciamo altri livelli con Bowser. Ovviamente non è colpa vostra, quindi non preoccuparti, Alex Super. Quindi cominciamo. Allora, Bowser ci ha rapito a quanto pare e c'è una cosa chiamata correre. Ok, perfetto. Oh, grazie, ma non serviva. Allora, cosa devo fare qua? Devo cliccare questo, andare... aspetta, forse io devo fare una cosa del genere... No, 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 mai nella vita. Non faccia... Allora, senti ciccio. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo. Mi dè qualcosa di buono? Oh, fungo elica. Non posso fare spin jump sui Twomp, vero? O forse sì? Ok, si può fare spin jump sui Twomp, ma non con il fungo elica. Ok, era tanto per sapere. Adesso che lo so, dovrei stare tecnicamente a posto. Quindi corri. Andiamo. Vai, 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 vai. Qua c'è un altro fungo che non ci interessa, quindi non lo prenderò, ovviamente. Clic. Perfetto. Ora, dammi il fungo elica. Grazie. Adesso, prima salto e poi spin. Eccoci qua. Perfetto. Dunque, ora devo... Non sembra esserci niente qua sopra, quindi ho fatto molto bene. Però qua c'è un fiore di fuoco. Lo prendo tanto perché posso prenderlo, ma non credo ci serva. Dai, rianimati. Ok, dovrei aver fatto bene. Si spera almeno. Ok, perfetto. Non ci vedo. Oh, no! Ok. Potevi mettere una freccia per indicare... Ehi, Tonksy Boy! Perché non fai un salto al posto di cadere di sotto? Va bene. Quella è una cosa chiamata YOLO, quindi non devo arrabbiarmi con nessuno. Ho ripreso il coso che non volevo prendere. Non è che io posso per caso... Esatto, si può fare questo salto senza problemi, ma a quanto pare... No, non importa. Salto, spin, come prima. Perfetto, ancora. Attenzione alle seghe elettriche. Ok, perfetto. Ripeto, secondo me conviene tecnicamente tenere il... l'elica, il fungo elica. Però il gioco mi sta consigliando di prendere il fiore di fuoco e io prendo il fiore di fuoco. Quindi attenzione a come facciamo tutto quanto. Cerchiamo di non perdere. Ok, allora. Abbiamo visto che qua ci sono dei tartossi giganti. Quindi posso saltarci sopra. Ok. Checkpoint, grazie. Ora. Andiamo, andiamo. Attenzione. Cercherò di non prendere quel fiore. Perché potrebbe servirmi dopo. Esatto. Disse lui, mentre cadeva nella lava. Almeno c'è un checkpoint. Quindi sto a posto. Dai, allora. Vai. Ho preso anche il secondo. Non importa. Ci sarà una stella là sopra. Almeno spero. Perché altrimenti è un po' difficile affrontare quel Bowser. Allora, aspetta. Prendiamo questo. Eccoci qua. Ora, andiamo qua. Cercando di non essere colpiti. Soprattutto dai Twomp. Che possono ipertroll... Allora. Queste ciambelle sono leggermente fastidiose. Quindi, proviamo a fare una cosa molto bella. Ossia, non perdere. Spin, spin. Perfetto. Ora, tu sbatti là. Tu sbatti. Io non so se ce la farò a finire questo livello, sapete? Proviamo a fare un'altra cosa. Passa. Ok. Prendiamo il secondo. La seconda pedana più che altro. Dovrei stare a posto. In before... Mi colpisce un'altra volta la ciambella. Ok. Va bene. Sai che ti dico? Ora corro. Ora vedrete in che senso corro, però. Ora. Attenzione qua. Vai. Ciambella passa. Ciambella passa. Non importa. No! Come ho fatto a perdere... Come ho fatto? Com'è caduto quel fiore? Come ho preso il fiore per sbaglio? Allora. Andiamo. La difficoltà non è tanto il Bowser, quanto l'arrivare in tempo senza morire là sopra. Quindi. La ciambella non mi darà... Ora seriamente perdo a posto il fiore. Voglio vedere... Voglio almeno vedere cosa c'è. Ok? Perché ancora non sono neanche arrivato a quel blocco. Se c'è una stella è meglio per noi. Allora. Attenzione. Ecco qua. Aha. Ok. Non mi interessa. Cosa c'è qua? Era un fungo elica. Spin! Ah! Ok. Ce l'ho fatta. Oh, mamma mia. La frustrazione. Mamma mia. Mario number one! Ok. Livello completato. Mamma mia. Ve l'ho detto. La difficoltà non è tanto lo sconfiggere il Bowser perché non era nei requisiti, ma finire il livello in generale. Quindi... Bel livello. Seriamente. Però... Ok. Ok. Night Airship. Corto ma bello. Con competizione. Ok. Fran Cg. Andiamo. Ti prego. Dimmi che non è... Ok. 6,86. Non se... Mi conviene stare zitto perché anche prima non sembrava, ma poi era quello. Quindi andiamo e basta. Allora. Oh, la gioia di trovare questi cosi Bill giganti. Ehm... Pallottoli... No, Banzai. Banzai Bill. Vai. Non devo andare là sopra. Cioè, devo andare là sopra, ma non con il Banzai Bill. Vero? 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 Ora, dovrebbe andare a destra. Perfetto. Dunque. Fino a dove mi accompagnerà questo coso? Non lo so neanche io. Però una cosa la so. Devo vivere. E quello è un Banzai... No, è un proiettile. È un proiettile Bill. A ricerca. Allora. Attenzione che sicuramente ne verrà addosso un altro. Oh. Come... Come si fa? No! Oh. 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 I am evil. Click. Ok. Allora. Vai. Perfetto. Vai ancora un po'. Un'altra volta un pallottolo Bill. Due? Uno Banzai e uno pallottolo. Ok. Ho fatto apposta. Ho fatto apposta. Perché se no... Mi avrebbe dato problemi. Ma tanti problemi. Io! Chi hai? Ok. 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 Va tutto bene. Ehm. No. No, 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 no. Ciao. Checkpoint. Per favore. Checkpoint. No checkpoint. No party. Aspetta un attimo, eh. Da quello che so, non ce ne possono... Se mi trolla. Vai. Vai. No, lo sapevo. Lo sape... Lo sapevo. Sono calmo. Sono eccessiva. Voi non sapete quanto calmo sono. Ok. Abbiamo appena... Abbiamo appena cominciato il livello. Cerchiamo di rimanere abbastanza pazienti. Quindi vai. Click. Perfetto. Vai avanti. Allora, dato che il livello è in realtà abbastanza lunghetto di suo... Se failo... Come? No, 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 no. Come? Come ha fatto? Seriamente come ha fatto? Non ha senso, ok? Cioè, io, se sto fermo e lui mi tocca, non deve farmi male. Non ha per niente senso. Comun... Visto? Ora, perché non mi hai fatto danno prima? Cioè, perché prima mi hai fatto danno e adesso no? Perché? Oh, perché il gioco deve trollare. Ovviamente. Ci sono alcune cose che cambierai delle meccaniche di Mario Maker 2, eh? Prima cosa... Il dannatissimo coso... Passa? Per favore, passa. Ok, grazie. Il dannatissimo... Hitbox delle spine. Poi, alcune cose tipo questa... Che questa... Ok, questo non mi fa danno, però, eh? Allora, vai. Attenzione. Adesso. Quello... Può essere un problema. A meno che io non faccia così. Ho fatto male? Ho fatto molto male, ma... A quanto pare sono vivo, quindi non mi posso... Lamentare. Lamentare. Ok, vai. Vai, 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 vai. Tanto non importa. Se mi colpisce una cosa, comunque mi colpisce. Non cambierebbe nulla. Ok. Da adesso in poi, se failo, si taglia qua. Quindi... Oh, oh. Grazie, grazie. Allora. Ignoro tutto e tutti. Ignoro tutto e tutti. Vai. Così. Aspetta. Ok. Ora dovrei stare a posto. Soprattutto se faccio così. Andiamo. C'è un checkpoint? No. Ovviamente no. Come? Oh! Per forza. Era obbligatorio fare quello. Comunque belli in un checkpoint, eh? Adesso. Vai. Su. Attenzione. Non sembra esserci nulla di preoccupante. Oh! 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 Grazie. Grazie mille. Perché hai messo quegli altri artigli? Non lo so, ma non ho bisogno di monete, quindi usciamo. Ok. Parapapà. Mi sono svegliato dalla parte sbagliata del letto stamattina. Ovviamente sì. Ovviamente sì. Comunque è un bel livello. Alla faccia. Ehm. Quindi ti dico che in realtà è... Dov'è divertente? È divertente come livello. Solo che è frustrante perché io non so giocare. Ok. Andiamo. Buona fortuna. Zero su centosettanta. Ok. Va bene. Comunque si sono abbastanza solti oggi. Quindi... Sì. Buona fortuna, Tonks. Speriamo che il solti non diventi umami, che forse è anche peggio. Comunque, andiamo. Oh, bene. Bau, bau. Bau, bau. Allora, centosettanta persone non ce l'hanno fatta. Io ci devo riuscire, però. Disse lui. Disse lui. Allora. Il primo salto non può essere così complesso. È randomico, mi sa. Ok. Ok. Allora. C'è un qualcosa di nascosto qua a sinistra? Ok. No. No. Allora. Sono inciampato nello stomp strano. Allora. Andiamo. Un'altra volta. Attacca. Vai così. Ok. Che ci vole... Oh no. Che ci voleva, disse lui. Non mi... No. Mi spiace, non mi arrendo. Vai. Quando è vero che può essere randomico, questo... Perché? Allora. No. 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 Andiamo. Con calma. Attacca. Perfetto. Vai. Cosa devo fare? Devo aspettare il primo coso. Mi sa che devo aspettare il primo coso. Ok. Cioè il primo lancio di cose. E io non lo aspetto, ovviamente. Se davvero devo fare un taglio all'inizio del livello perché non riesco a superare le prime cose, mi arrabbio ancora di più. Vai. Vai. No. Il ghiaccio. Ehm... Allora. Almeno devo superare i cosi. E sbatto sul cateniaccio. Ehm... Allora. Attenzione. Salto e colpisco il cateniaccio. Ora. Io posso fare gli spin jump. Perché non faccio spin jump? Perché non so usarli? No. Sono facili. Spin jump. Ok. Vai. Ah. C'ero quasi riuscito. Comunque sì. Bisogna aspettare un secondo. Prima di saltare sopra i cosi. E saltarne solo su uno, mi sa, eh. Bau, bau. Spin jump. Ora. Ah. Dannazione. Ok. Ultima chance. Poi si taglia finché non sconfiglio i Martel Koopa. Ok. Spin jump. Nota bene da quando faccio lo spin jump. No. C'ero quasi riuscito. Dai. Davvero ultima chance. E poi si taglia davvero. Dai. Allora. Parra pa pa pa. Spin. Oh. Ok. Va bene. L'ho detto. Lo faccio. Si taglia. Ok. Ok. Io li ho superati. Li ho superati. Ti prego dimmi che non è un troll. Dai. Attacca. Attacca. Ok. Non ci arriva. Per favore un fungo. Ok. È anche meglio di un fungo. Preso. Ok. Perfetto. Potete anche saltarli allora. No. Dannazione. Fai. No. Mi spiace davvero tanto. No. 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 Le spine. Perché le spine? Ok. Vedete questo? Vi ho parlato prima del litbox delle spine. C'è un motivo se ve ne ho parlato. Ovviamente. Allora. Vediamo se riesco a rifare quello che ho fatto prima. Ci ho messo un bel po' a farcela ma... Alla fine non era troppo complesso. Basta. Allora. Basta fare così. Ok. Ancora. Allora. Non ci vuole nulla. L'ho fatto prima. Ora. Salta qua sopra. Doppio spin. Lanciate. Colpisci. Spin. Spin. Oh. Ci voleva davvero così tanto? A quanto pare sì. Non so se ci arriva. Non dovrebbe arrivarci. Allora. Corri. Scivola. E vabbè. Ciao. Spin. Attenzione. A questi. Non importa. Non importa. Ora. Hitbox. Ho ancora. Il ghiaccio. Ok. Mamma mia. Dammi un checkpoint. Un checkpoint. Ok. Vabbè. Dovevo essere per forza piccolo oppure avere il fioro di fuoco quindi non potevo fare comunque nulla. Allora. Eh. Eh. E che succede? Da dove è apparso quel fungo? Beh. Grazie. Forse è apparso dal tubo? Può essere? Possibile? Eh. Sì. E mi sa che lo devo tenere. Facciamo una cosa. Dato che va attraverso i nemici. Prendiamo quel fungo. Che io debba prenderne più... No. Non devo prenderne più di uno, eh. Ok. Andiamo. Aspetta. Aspetta. Torna indietro quello. Sì. Ok. Quindi facciamo così. Ok. Vai. Dovrebbe aiutarmi per sconfiggere quelle piante piranha. Almeno si spera. Vero? Perfetto. Ok. Adesso. No. 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 Aspettiamo. Aspettiamo giusto un attimo. Perché posso farlo. C'è un altro fungo là? Ma non mi interessa. Voglio questo fungo. Ok. Devo stare attento però a quello. Perché se si attiva mi darà problemi. Ok. Ok. Vai. Corri Mario. Corri Mario. Ignora tutto e tutti. Ok. Allora. Come? Devo prendere danno. Vero? Sì. Per forza. No. Sono scivolato per terra. Devo rifare tutto il livello da capo. Ok. Si taglia. Si taglia. Sono calmo. Sono calmo. Sono calmo. Sono calmo. Sono calmo. E non sono solti. Per niente. Non sono affatto solti. Andiamo. Sono molto solti. Potere del fiore di fuoco. Ok. Perfetto. Adesso non dovrei avere problemi. Si spera. Nel colpire questi cupistrici. Vai. Ok. Allora. L'unica pecca è che devo essere... Ah no. Aspetta. 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 Posso scivolare. Vero? Così. Ok. Ora che abbiamo due potenziamenti dovrei stare a posto. Però come si fa questo? Perché... No. Si può fare? Vai. 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 Non importa. Non importa. Sto citando? Sì. Mi interessa. Assolutamente no. Andiamo. Vai. Devo rompere questo? Spero che... Oh. Spero che funzioni. Dicevo. Non posso andare nella porta se ho il coso. Oh no. Chiave. Boom boom. Solo boom boom. Ok no. Bowser. Che posso sconfiggere in questo modo. Colpisci. Aha. Colpisci ancora un po'. Le fiamme però... Devo... Evitarle. Ok. Aspetta. Facciamo così. Ecco qua. Molto più pratico se faccio così. Molto più veloce anche. Non devo però cadere dentro Bowser. Ok. Ce l'ho fatta. Aspetta. Checkpoint. Sent o fine? Um. Huh. Cosa devo... Eh? Oh. Oh. Ok. 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 Così? Ok. Perfetto. Perfetto. Posso fare rimbalzate. Allora ha senso. Ha molto senso. Ok. Com'era attivo o spento prima? Era spento già? Sì? Ma non posso andare oltre se faccio in quel modo. Quindi. No. No. Perché non mettete checkpoint? Ed è ricominciare a... Potrei perdere subito adesso. Non hai messo niente per aiutarmi. Quindi è per forza così. Ok. 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 Ti prego. Un checkpoint. Uno. Un checkpoint. Neanche mezzo. Se c'è un Bowser... Io... Ti odio. Ti odio un sacco perché avrò perso di sicuro adesso. Aspetta. Mi fai... Mi hai trollato. Dovevo cadere... Ok. Io faccio un altro tentativo dopo Bowser. Se perdo un'altra volta... Abbandono il livello. Sono seriamente così solti. Allora. Riproviamoci. E stavolta non devo seguire le frecce. Vi ho detto. Giusto? Sì? Ok. Perfetto. Allora. Scusate un attimo però. Seriamente. Quando il livello... Da fastidio. Ok. Non importa. Ero abbastanza grande. Ok. Adesso. Ignoro le frecce. Perché le frecce mi hanno portato alla fine. Avete visto? Bene. Qua sotto devo andare? Ora io qua... Qua fermo sto. Se non vedo un qualcosa che mi dà una mano... Mi dà... Eh... Troppo il livello. Ok. Visto? No! Dovevo fare uno... E dove me l'hai detto che dovevo fare uno spin jump? Mio Dio. Seriamente ultima volta, eh? Ultima volta che arrivo dopo Bowser per fare lo spin jump che non sapevo di dover fare. Ok. Ok. Allora. Sono grande e sono qua. Quindi, se ignoro il troll e poi premo R o DL per fare lo spin jump, dovrei riuscire ad arrivare avanti. Non importa? Spin jump. Ok. Vai. Attenzione. Attenzione davvero un sacco. Vai. Per favore. Dai. Per favore. Seriamente non ce la faccio più. Ok? È da troppo tempo che faccio questo dannatissimo livello. Mi devi dare almeno un checkpoint. Ti prego. Aspetta. Vai via. Vai via. Ok. Mi stai dicendo congratulazioni. Spero che... No. No, 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 no. Non ci penso né a... Oh mio Dio. Aspetta. Ti prego. Ti prego. Dai. C'è una moneta. Vuol dire che c'è qualcosa... Oh. Vai. Allora. Si può fare così? Sì. Si può fare direttamente così. Vai. Devo essere grande. No. Ti ho... No. Non ce la faccio più. Seriamente non ce la faccio più. Torno dai Twomp. Non c'è neanche un checkpoint. Torno dai Twomp. Se non ce la faccio dopo i Twomp, seriamente troppo il livello. Perché seriamente non ce la faccio più. Andiamo allora. Dai. Seriamente sto morendo di voglia di finire questo livello. Anche perché non riesco a saltare. Ok. No spine. No. Perché il Twomp doveva fare quella strada? Perché non è messo un checkpoint? Come... Aspetta. Ecco. Devono capire quanto è brutto sto livello. Non c'è neanche un checkpoint. Neanche uno. No. Ciao. Esci. Mi spiace. Ti odio. Da adesso in poi... Hai altri livelli per caso? Sì. Ok. Questi qui... Non li faccio. Ok. Questi qui... Non li faccio. Nei fatti due per Poké Donks? Sì. Te lo faccio di sicuro, eh. Lo faccio di sicuro. La risposta è no. Mi spiace davvero troppo. Potrei leggere questo livello? No. Mi spiace? No. Basta. Video corto? Non mi interessa. Non sono più... Ciao. Ciao.